Benvenuti su Gossip in the News. Emma Marrone ha conquistato il cuore del pubblico italiano negli ultimi dieci anni, diventando una delle cantanti più amate del panorama musicale nazionale. Dopo la sua vittoria nell'edizione di Amici, ha continuato a raccogliere successi e ad avere un seguito fedele che la supporta con entusiasmo. Recentemente, un video è apparso sul web mostrando Emma mentre si esibisce in una canzone con grande enfasi. Questo ha scatenato un dibattito sui social, con molti utenti che hanno ipotizzato che la Marrone potesse essere ubriaca durante la performance. Nonostante le critiche ricevute, alcuni fan hanno difeso la cantante, sottolineando che la sua esibizione era piena di passione e che ciò dimostrava la potenza emotiva della sua musica. Questa esibizione è carica di energia e passione, hanno commentato diversi utenti sui social. La domanda che sorge spontanea è, Emma era davvero ubriaca durante la sua esibizione? È un interrogativo che ha diviso l'opinione pubblica. Vogliamo conoscere anche il vostro punto di vista. Fatecelo sapere nei commenti. A presto con nuovi aggiornamenti.